La settimana di ferragosto non tradisce le aspettative delle strutture alberghiere, che anche quest'anno fanno il pianone e vanno in sold out. Si tratta del periodo per eccellenza della stagione estiva che tutti i lavoratori del settore turistico attendono per attirare un bilancio più o meno positivo della stagione in corso. Giorni che nella pesarese saranno pieni di turisti in tutta la provincia, dalla costa all'entroterra, anche grazie ai tanti eventi di Pesaro 2024. Sarebbe difficile immaginare un ferragosto senza il pieno nelle strutture ricettive. Abbiamo avuto un pessimo inizio d'estate a causa di un meteo che ha rovinato praticamente tutti i weekend, per cui le strutture ricettive in tutta la provincia hanno lavorato poco c'è stata anche nella vicina regione una lamentela forte anche da parte dell'associazione degli agriturismi con una perdita, loro dicono, quasi del 30% delle presenze nei mesi di giugno e di luglio. È la stessa cosa, anche se con numeri meno impattanti, anche nella nostra provincia. Adesso le strutture sono al pieno, ed è normale che sia così, è al pieno anche perché abbiamo l'offerta balneare che ben si lega con l'offerta culturale di Pesaro, capitale italiana della cultura per quest'anno, e con i tanti eventi, le tante iniziative che si svolgono in tutto il territorio grazie a questa iniziativa dei comuni che per una settimana all'anno diventano anch'essi capitale italiana della cultura. Il progetto di Pesaro 2024, ovvero capitale al quadrato, è servito al territorio soprattutto per una promozione dei comuni dell'entroterra che faranno da spalla e da sponda al turismo costiero in un'estate dove il mare ha più volte visto un'intensa presenza di mucillagini. Indubbiamente preoccupazione per lo stato del mare, delle mucillagini che è un fatto naturale purtroppo dovuto a queste altissime temperature, come hanno dichiarato più volte gli esperti di biologia marina, quindi nessun problema per la salute salvo ovviamente il dispiacere di vedere ogni tanto il mare non perfettamente pulito. Però gli alberghi sono pieni e abbiamo un'entroterra straordinario che riesce a creare un'alternativa al turismo balneare.